Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità su via Ardiatina. Per uno smottamento c'è la chiusura del tratto tra l'Appia Antica e via delle Sette Chiese. Per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea di bus 218 che percorre via delle Sette Chiese, la Colombo, via di Toro Marancia e via Sartorio. All'Eur oggi per un evento dalle 17 è prevista la parziale chiusura di viale Tupini con la deviazione delle linee 31, 780 e 788.